bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi non doveva andare su il terzo video oggi sinceramente non era in programma però ragazzi è venuta fuori una notizia una notizia che ha detto ciao questi ragazzi qua non li posso far andare a dormire il sabato sera senza dirgli questa news si ragazzi è proprio così l'avete letto nel titolo quindi sono sicuro che già sapete quello che sto per dirvi sono state rivelate dai dataminer le sfide della settimana numero 7 ragazzi la settimana più importante di fortnite perché xyuder perché la settimana 7 è la più importante raga la settimana 7 sarà importantissima perché finalmente rivelerà lo spacca tutto finalmente ragazzi lo vedremo sapremo capiremo che cosa si cela da ben sette settimane dietro quella figura lì che si aspetta ma non parliamo non perdiamo cin 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 schianchin cin andiamo subito a parlare delle sfide ragazzi prima sfida 5 stelline per voi ragazzi infliggi danni ad un nemico con il piccone su 100 danni in totale quindi 10 picconate ad un nemico e ci portiamo a casa 5 stelline numero 2 ragazzi ovviamente immancabile cerca sette forzieri a rapide rischiose sappiamo che ce ne sono alcuni nelle case ce n'è uno dietro il maxi schermo ce n'è uno possibilmente vicino alle ma sopra le macchine e dove c'è il camion del cratere oramai coperto insomma pinnacoli la vendetta 2 questa settimana che arriva si troverà a rapide rischiose sempre 5 stelle per voi sfida semplice numero 3 ragazzi e questa è bella sapete che mettono sempre dentro quelle cose lì particolari consuma sette ortaggi sette frutti barra ortaggi cosa vuol dire raga che dobbiamo consumare un totale di sette tra le mele le mele e i funghetti quindi ragazzi o ce ne andiamo direttamente a putrido ci risolviamo il problema o ce ne andiamo vicino al campo da calcio a 5 ci risolviamo il problema insomma niente di difficile questa è bella questa è bella ragazzi l'avevano annunciato fortnite ovviamente farà un omaggio ai mondiali di calcio del 2018 lo zia l'italia quest'anno come credo che abbiamo fatto a non essere i mondiali vabbè fai gol in due porte diverse semplicissimo la prima la troviamo al campo da calcio a 5 la seconda la troviamo al mi viene il nome in inglese al pleasant park che sarebbe parco pacifico non si chiama non mi ricordo il nome in italiano comunque lì lo sapete c'è il campo da calcio gigante andiamo a fare invece le sfide 3 sfide da 10 stelline quindi un livello del pass battaglia easy busy così la prima ragazzi la prima e l'ultimo l'unico punto interrogativo che i dataminer non sono riusciti a scovare ragazzi ovviamente segui la mappa del tesoro non era ancora specificato dove fosse questa mappa del tesoro io credo che entro uno due giorni riusciremo ovviamente a saperne di più penultima sfida da 10 che secondo me non è difficile ragazzi però loro la classificano sempre come difficile eliminazioni con fucile d'assalto quindi 3 kg ovviamente fatte con il nostro bella r con il nostro bella coga che tanto è sempre fucile d'assalto con il vampa fucile credo che sia conteggiato anche lui 3 kg e 10 stelline del pass battaglia ultima ma meno meno importante ragazzi sfida difficile da 10 stelline alt prima di dirvela mi raccomando e dai che se ancora non l'avete fatto raga un bel pollicione in su e mi raccomando iscrivetevi al canale in tantissimi anche per partecipare ai vari contest 10 euro che facciamo su questo canale elimina 3 nemici a condotti confusi questa ragazzi era l'ultima sfida da 10 beh ragazzi non so se sono stato il primo in italia ad avere pubblicato le sfide della settimana numero 7 voi di certo siete tra i primi a saperle io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video bel pollicione iscrivetevi al canale non perdete gli aggiornamenti dei prossimi giorni sul parco giochi sull'uscita di fortnite per android e su tante altre news noi ci vediamo domani ciao 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 Grazie a tutti.